bentornati a questo terzo episodio della nuova serie questa volta vi parlo di un'auto che acquistato nel 2015 una vettura che ho preso sia per curiosità sia per soddisfare quella particolare attrazione che ho sempre avuto per alcuni modelli particolari in questo caso parliamo della lancia delta hp e auto troppo spesso screditata per partito preso e che invece era una vettura molto migliore di come sempre stata dipinta prima però di andare a conoscere la mia esperienza con la delta hp e vi voglio presentare un nuovo articolo anche questo omaggiatomi tempo fa e che non avevo ancora avuto modo e tempo di mostrare prima di recensirvelo voglio precisare ancora una volta che tra le tante proposte di presentazione che mi vengono offerte quasi settimanalmente scelgo solo quelle che mostrano articoli interessanti utili o attinenti al mondo dell'auto e voglio ricordare che non è mia abitudine effettuare questo genere di recensioni nel canale ma in questo momento è un modo per sostentarlo che mi aiuta a farlo crescere e a migliorarlo e il mio obiettivo è quello di impegnarmi con ancora più energie affinché grazie anche al vostro supporto a breve non ci sia più necessità di queste parentesi per cui chiedo ancora una volta la vostra pazienza e comprensione e andiamo avanti questa volta vi presento un display multifunzione da vettura della carpool ride azienda in forte espansione che realizza accessori multimediali di sicurezza per auto e moto in questo caso vi presento un display w903 un display di nuova concezione che sta avendo un grosso successo grazie alle sue particolari caratteristiche in alcuni aspetti uniche il display utilizza la migliore componentistica e la migliore tecnologia per offrire un funzionamento facile completo ed estremamente utile questo sistema basato su un display multimediale con fotocamera integrata può essere fissato saldamente sul parabrezza sulla plancia con una potente ventosa applicata sul braccio di supporto o direttamente sulla plancia con un secondo supporto apposito in dotazione si può quindi regolare l'altezza e la lunghezza in base alle proprie preferenze mentre la base permette la rotazione di 360 gradi il sistema è progettato per l'installazione plug and play e quindi può essere installato o disinstallato facilmente in pochi minuti eliminando di fatto i costi di montaggio dei sistemi più diffusi quelli fissi in questo modo è possibile esprostarlo da un'auto all'altra il display è interfacciabile ai comuni sistemi bluetooth 5.0 e ai telefoni cellulari più diffusi con sistemi di riconoscimento per apple e android supporta inoltre anche le app in eventi della navigazione come apple carplay android auto nonché le altre app come arplay e android cast si basa su un sistema formato dal display ed è una dash cam superiore questa è ruotabile di 350 gradi per poter effettuare riprese nitide e dettagliate di quello che accade davanti alla vostra auto così da registrare memorizzare ogni evento ma la particolarità del w903 è la possibilità di poter ruotare la dash cam e di posizionarla in modo che possa visualizzare e filmare ciò che accade al posteriore oppure all'interno dell'abitacolo offrendo quindi anche la possibilità di monitorare in tempo reale ciò che accade per esempio sul divano posteriore funzione importante se si viaggia spesso con bambini seduti nei sigilini di sicurezza è l'unico display in produzione a poter vantare questo sistema di dash cam multiorientabile che è dotata di caratteristiche di elevato livello come l'alta risoluzione da 2,5 k l'obiettivo grandangolare la funzione di registrazione in loop e la possibilità di essere regolata oltre che orizzontalmente anche nell'asse verticale inoltre ha la capacità di adattarsi alle condizioni di luce e quindi la possibilità di ottimizzare le riprese in funzione della luce esterna il display hd ips da 9,3 pollici con risoluzione 1600x600 ha un design moderno e curato è costruito con le più moderne tecnologie utilizza materiali di ottima qualità ha una speciale finitura antiriflesso e uno schermo particolarmente resistente a orti o graffi inoltre anche lui si regola automaticamente in funzione della luminosità all'interno dell'abitacolo ma anche di quella esterna così da garantire a sempre la migliore visibilità ed è l'unico display ad avere questa caratteristica esclusiva permette un'ottima visualità grazie ad un ampio angolo di visione e supporta la visualizzazione divisa bidirezionale che consente di mostrare più contenuti contemporaneamente tramite la connessione wireless bluetooth 5.0 consente di effettuare tutte le più comuni funzioni del telefono direttamente sul display e grazie anche ai comandi vocali possibili grazie a un microfono integrato di effettuare chiamate scrivere messaggi aprire applicazioni come siri o attivare gps senza togliere le mani dal volante e in totale sicurezza permette di personalizzare l'impostazione dello schermo con l'inserimento per esempio dell'orologio della schermata del navigatore della visualizzazione in tempo reale di ciò che riprende la dashcam e altre funzioni richieste dal telefono grazie all'interfacciabilità con le più comuni applicazioni come airplay android cast permette inoltre di visualizzare filmati youtube di guardare film sintonizzare la radio fm di visualizzare i contenuti del telefono connesso il carpool ride w 1903 utilizza un potente altoparlante integrato che offre bassi potenti tonalità chiare garantendo un suono pulito e vero a una scheda di memoria tf da 64 giga in dotazione ed entrate a usb e aux che consentono tra l'altro di caricare il telefono o di applicare un ulteriore fotocamera come quella per esempio per la vista posteriore in definitiva un prodotto interessante che consente di concentrare tantissime funzioni migliorando la guida e la sicurezza dell'auto tra le sue caratteristiche uniche la possibilità di personalizzare a piacere la schermata di accensione che inviando l'immagine preferita alla carpool ride può essere inserita come schermata iniziale potete quindi utilizzare per esempio il logo della vostra auto o quello della vostra della vostra squadra preferita troverete tutte le caratteristiche dettagliate del carpool ride w 1903 nel link in descrizione e qualora fosse interessati all'acquisto inserirò anche il codice sconto riservato alle scritti di pirata design nel ringraziarvi ancora per la pazienza e l'attenzione è arrivato il momento di raccontarvi la mia storia con la delta hpe fine luglio 2015 dopo aver venduto la mia volvo v 70 da oltre un milione di chilometri ero alla ricerca di una vettura da utilizzare per la mia occupazione dell'epoca doveva essere una vettura spaziosa affidabile e soprattutto costare poco visto che la mia disponibilità economica era davvero risicata mi ero messo alla ricerca di un'altra station wagon senza però escludere altre opzioni avevo già visto due mondeo station wagon di prima generazione e una marea weekend jtd tutte e tre decisamente vissute e poco raccomandabili stavo valutando di partire per il veneto dove un conoscente mi aveva segnalato una lancia k station wagon jtd a sudire in ottime condizioni e offerta ad un prezzo ridicolo l'idea non mi dispiaceva avendo già avuto in passato 3k berlina delle quali ho apprezzato il comfort la comodità le prestazioni e la tenuta di strada tutte doti di quella che a mio avviso una vettura troppo sottovalutata mentre prendevo seriamente in considerazione questa opzione proseguivo nella ricerca di auto disponibili in zona nei consueti siti di inserzioni e improvvisamente la mia attenzione si sofferma su un annuncio inequivocabile l'inserzionista vendeva la sua lancia delta hpe turbodiesel c'erano solo due foto nell'inserzione e la descrizione era concisa ma il prezzo inferiore è 1000 euro e la distanza di circa 50 chilometri da casa mi spinse a contattare il proprietario premetto che fu una reazione istintiva quella macchina sembrava mi stesse chiamando non so come spiegare quello che voglio dire ma sembrava che che dovessi prendere ad ogni costo quella vettura così senza considerare che era una tipologia di vettura all'antitesi di ciò che stavo cercando e di ciò che mi serviva realmente senza nemmeno pensarci chiamai e fissai un appuntamento nel primo pomeriggio del giorno successivo andai a vederla la delta era ricoverata dentro un grande garage era abbastanza impolverata ma sembrava ben tenuta il proprietario la mise in moto e la tiro fuori era rossa immatricolata nel 1997 ed era sempre appartenuta a chi la stava vendendo nonostante lo strato di polvere appariva sana e in buono stato mostrava solo alcuni segni del tempo il proprietario mi disse di averla fatta riverniciare completamente qualche anno prima nel colore rosso originale doppio estratto e di aver sempre eseguito le manutenzioni regolari ammise anche che nell'ultimo periodo avendo preso un'altra auto la stava un po' tralasciando e alla fine aveva deciso di disfarsene visto che era stata una fedele compagna per lungo tempo mi raccontò un po' della storia di questa delta quando l'aveva acquistata e va chiesta alla concessionaria lancia di allestirla come la hpe hf e di questa aveva le minigonne laterali lo spoiler posteriore i cerchi in lega da 15 a canale largo il volante sportivo a tre razze con airbag e insomma era come la hf fa anche la mascherina con con le prese d'aria sotto i fari internamente era in buono stato e a parte il sedile di guida che era scucito e consumato in alcuni punti era davvero ben tenuta i sedili erano i recaro con questa configurazione e questo tipo di alcantara a parte i recaro a parte l'airbag guidatore non aveva nessuno degli optional disponibili per questo modello quindi niente climatizzatore automatico niente abs niente tetto apribile aveva solo un autoradio sony h7 montata dal proprietario al momento dell'acquisto dopo aver dato un'occhiata al bagagliaio chiedo di poter visionare il vano motore e questo si presentava abbastanza pulito con segni di manutenzione recenti i vari cedolini dei tagliandi e solo una piccola trasodazione di olio da manicotto lesionato chiesi di poterla mettere in moto ovviamente e notai che partì subito teniamo a mente questo particolare perché ne riparleremo più avanti il motore girava regolare aveva un suono molto rotondo sintomo di una salute ottimale nonostante circa 239 mila chilometri che indicava la sua strumentazione la cinghia di distribuzione era stata fatta da circa 20 mila chilometri a detta del proprietario questa delta non aveva necessità di alcun intervento a breve scadenza chiesi quindi di poter fare un giro ma lui mi disse che la delta era priva di assicurazione e che quindi non era propenso a farla circolare e quindi mi dovete accontentare di simulare alcune partenze per valutare lo stato della frizione che che apparentemente era perfetta il proprietario mi confermò di averla sempre manutenzionata regolarmente perché dal 1997 anno in cui l'aveva acquistata l'aveva dovuta usare quotidianamente per spostamenti di lavoro dovete cercare conferma di questo e dello stato della meccanica da fermo non potendola provare e quindi analizzai ogni componente e fidandomi anche di quanto era stato riferito il proprietario mi disse anche che avrei dovuto dargli una risposta sulle mie intenzioni subito perché aveva altri due probabili acquirenti e che quindi doveva prendere la decisione quanto prima questa situazione mi fece un po pensare perché se il fatto che non mi avesse permesso di guidarle era una scusa per nascondermi qualche problematica oppure che questa strategia fosse la scusa per sbarazzarsene quanto prima insomma gli interrogativi erano tanti però nonostante tutto nonostante fossi consapevole che era un rischio acquistare una vettura così quasi a scatola chiusa perché un eventuale difetto avrebbe portato ad un lungo fermo mi fidai del mio istinto di quella voce interiore che mi continuava a bisbigliare prendila prendila e così senza pensarci più di tanto confermai la volontà di volerla acquistare ma solo a condizione di uno sconto sul prezzo iniziale di vendita il proprietario dopo un suo iniziale di niego si accettò e dopo una stretta di mano ci accordammo per 700 euro a conclusione della trattativa lui mi fece rientrare in garage e mi mostrò una media dei di ricambi che aveva raccolto nel tempo e che mi avrebbe dato insieme alla vettura tra la mole di materiale c'erano paraurti un portellone posteriore e fari altri quattro cerchi in lega momo da 15 dei particolari interni tanti di cambi di motore un divano posteriore in alcantara e tanto altro materiale che ora nemmeno ricordo mi chiese però la cortesia di portare tutto via contestualmente alla macchina li lasciai documenti per fare il passaggio di proprietà pagai metà dell'importo patuito e parti verso casa durante il viaggio chiamai un amico che che ha un furgone e li chiesi quando fosse disponibile per accompagnarmi a ritirare la macchina così da poterci caricare tutto quel materiale ci accordammo per il pomeriggio del terzo giorno successivo intanto comunicai i dati della delta all'assicuratore e la mattina seguente una volta ricevuto il pdf del lato di vendita lo girai all'assicurazione che fece partire la copertura per il giorno in cui sarei dovuto andare a ritirarla sarà stata anche una vettura adattata una vettura da 700 euro una vettura da quasi 240 mila chilometri ma non vedevo l'ora di poterla portare a casa e guidarla così l'attesa per il gran giorno volò letteralmente quel pomeriggio decisamente caldo partimmo e una volta arrivati all'abitazione del proprietario trovamo la delta già fuori ad aspettarci era stata lavata sommariamente ma almeno si poteva notare la vernice lucida e brillante a parte quella del paraurti posteriore e dello spoiler posteriore dopo aver salutato l'ormai ex proprietario e saldato il conto iniziamo a caricare tutti i ricambi sul furgone solo dopo aver terminato mi desi conto che il materiale era davvero tanto tant'è che avevamo praticamente riempito il furgone così ci congedammo e ripartimmo chiese al mio amico di seguirmi in modo che se la vettura avesse avuto qualche problema in due l'avremmo affrontato al meglio ma dopo pochi chilometri in prossimità di un incrocio io presi una strada e il mio amico l'altra e quindi ci separammo la strada che avevo scelto era una di quelle vecchie diciamo quelle ricche di curve si trova in mezzo a un passaggio bellissimo e così nonostante mi fossi ripromesso di andare piano per prevenzione mi ritrovai in piena prova speciale e avevo già un enorme sorriso perché quella macchina andava davvero bene ho avuto subito la sensazione l'impressione che avesse qualche cavallo più del dichiarato perché spingeva davvero forte e ogni volta che affondavo sul pedale dell'acceleratore potevo vedere attraverso lo specchietto retrovisore le dense nubi di fumo nero che si sprigionavano dallo scarico inequivocabile firma di un motore diesel comandata dalla pompa rivista la macchina andava davvero forte e aveva una grande tenuta di strada le ruote da 195 50 15 e i cerchi a canale largo consentivano un'enorme inaderenza nonostante i pneumatici fossero datati induriti resta immediatamente piacevolmente impressionato dal suo comportamento che mi ricordava tantissimo quello delle mie fiat coupé non a caso hanno lo stesso pianale nell'affrontare alcune curve in appoggio ebbi la conferma che gli ammortizzatori posteriori erano abbastanza scarichi perché in certe situazioni il posteriore pompava ma non era nulla di troppo preoccupante mi ritrovai ad affrontare quel misto stretto con un passo davvero veloce con una macchina che avevo appena preso ma che sembrava essere mia da sempre era facile sincera intuitiva sicura nella mia testa si insinua già al pensiero che con questa compatta sportiva gasolio mi sarei divertito tanto il mio piacevole pensiero venne però interrotto da un colpo secco sul parabrezza un sasso lanciato dalle ruote posteriori di un vecchio turbo daily che mi precedeva a notevole distanza aveva colpito la parte centrale del cristallo provocando un'immediata spaccatura verticale che dopo pochi chilometri aveva iniziato a ramificarsi in quel momento ho pensato che i soldi spesi per la polizza cristalli li avevo investiti bene arrivai a casa quasi contemporaneamente al mio amico che aveva percorso una strada più corta e molto più scorrevole e considerando che lui non è che i guidi proprio da pensionato dovevo essere andato davvero forte scaricamo il furgone andamo a bere una birra insieme prima di dedicarmi a sistemare al meglio tutto quel materiale in garage il giorno dopo non dovendo uscire per lavoro mi impegnai a lavare a fondo la mia nuova delta non prima di avrei contattato l'assicurazione per la sostituzione del parabrezza iniziai a svuotare l'abitacolo e il bagagliaio di tutto quello che era immagazzinato e trovai il solito inventario di monete penne fogli sorprese degli ovetti kinder caramelle ma anche uno di quei monili che si inserivano nelle auto al momento dell'acquisto come augurio poi aspirai a fondo la moquette e i sedili e spolverai tutti i pannelli e la plancia a lavoro terminato ebbi la conferma che che l'abitacolo era comunque in buono stato di conservazione e a parte quella profonda scucitura che aveva sul sul fianchetto del sedile di guida e che aveva permesso alla gomma piuma di fuoriuscire e di rovinarsi era tutto più che più che decoroso inoltre come tutte le delta 836 le dedra ma anche le libra e molte auto del gruppo fiat del periodo le plastiche della parte inferiore della plancia erano appiccicose e in caso di contatto con i vestiti macchiavano terribilmente per cui in attesa di una soluzione mi ripromisi di stare attento ad eventuali contatti dopo aver messo due fuderine sui sedili anteriori mi dedicai all'esterno lavai a fondo la carrozzeria e una volta terminato iniziai ad analizzare attentamente le condizioni della stessa c'era una piccola macatura sul parafango anteriore sinistro un'altra un po più grande su quello posteriore destro la parte inferiore della porta sull'altro lato della porta destra aveva un profondo graffio un segno abbastanza evidente il paraorta anteriore aveva dei profondi graffi da parcheggio e quello posteriore oltre ad avere questi graffi mostrava una vernice differente dal resto della carrozzeria così come il portellone lo spoiler che tra l'altro era anche completamente rovinato dal tempo dal sole mi sembrava un po strano questo particolare e qualche giorno più tardi scoprì il perché ve lo racconterò dopo sul tetto all'altezza del della parte finale diciamo del portellone c'erano alcune scomature della vernice le minigonne laterali erano malmesse fondamentalmente ma tra i ricambi in dotazione ce n'erano altre due in buono stato e infine i cerchi che erano rovinati esteticamente con la finitura lucida saltata in più punti i bordi decisamente rovinati e scheggiati le gomme che erano buone come battistrada erano datate e decisamente dure fatta questa analisi completa iniziai a mettere in lista gli interventi da fare con più urgenza inizialmente pensai di rimandarli perché e di utilizzare la vettura ma poi considerando gli impegni di lavoro che mi avrebbero probabilmente impedito di fare tutti i lavori decisi di fare tutto subito e di utilizzare la delta solo una volta terminata primo lavoro in lista la carrozzeria smontai subito i paraurti e togliendo quello posteriore trovai la prima sorpresa e ci ricolleghiamo a quanto detto prima sulla traversa inferiore sulla traversa inferiore era presente un chiaro segno di un tamponamento anche abbastanza violento e sicuramente quindi non leggero e probabilmente questa era stata la causa della sostituzione del paraurti e del portellone posteriore probabilmente presi ad uno sfascio vista la discordanza tra la vernice di questi elementi e quella del resto della vettura in seguito ho fatto controllare ovviamente per sicurezza la vettura evidentemente però il danno era circoscritto alla sola traversa perché non comparivano altre altre anomalie decisi quindi di riverniciare i paraurti e lo spoiler posteriore ordinai diverse bombolette del colore originale e altre del fondo necessario ordinai anche la vernice per per i cerchi in lega in una mattinata smontai completamente tutte le parti incriminate e mi dedicai a ripristino per prima cosa levigai i paraurti risanando i graffi con stucco apposito quindi spruzzai il fondo e una volta asciugato il rossa corsa originale una volta asciugato anche questo riverniciai di nero opaco le modanature dei paraurti lo spoiler di spoiler dei paraurti le minigonne laterali e infine riverniciai anche lo spoiler posteriore dopo averlo ovviamente preparato mi occupai anche della squamatura sul tetto carteggiai e sumai con la vernice e ripresa un aspetto presentabile una volta rimontato tutto la delta aveva già un aspetto ancora più accattivante ma c'era ancora qualcosa che non che non mi convinceva ed era la mascherina anteriore particolare che non ho mai apprezzato più avanti la riverniciai così come cioè pensando a come migliorarla in omaggio alla delta hf integrale 16 valvole gruppo a che guidata da biaseone esordì vincendo a rally di sanremo del 1989 la verniciai di nero opaco lasciando solo la parte interna rossa a riprendere lo stile di quella famosa delta da gara e l'aspetto finale era a mio avviso ben riuscito una volta terminato lifting alla carrozzeria mi dedicai ai cerchi dopo averli smontati e sostituiti con quei momo che mi aveva dato il proprietario in dotazione con la vettura li portai dal mio amico gommista che smontate le gomme me le riconsegnò li portai a un conoscente che si occupò di sabbiarli una volta pronti ricostrui i bordi danneggiati con stucco metallico apposito e diedi la prima mano di fondo a questa ne seguirono altre due così da formare una superficie quanto più liscia quindi spruzzai la vernice color alluminio a lavoro finito non ero ancora completamente soddisfatto e così ripassai i bordi interni dei fori triangolari di ventilazione di nero lucido così da avvicinarne l'aspetto a quello dei cerchi originali e una volta terminati rimontai le vecchie gomme e li fissai alla capie ora era almeno esteticamente come la volevo faceva una bella figura ed erano in tanti a complimentarsi per l'aspetto di un modello che era ormai praticamente scomparso dalle strade inizia ad utilizzarla già dal giorno seguente e per un intero mese non ebbe un giorno di pausa più di 4000 chilometri percorsi su varie tipologie di tracciato tutti piacevolmente percorsi grazie alle sue prestazioni alla coppia di questo motore instancabile alla comodità dei suoi sedili al piacere di guida che trasmetteva alla tenuta di strada davvero elevata e perché no anche ai consumi contenuti questi erano davvero bassi se la seguirava senza strafazzarlo sono riuscito anche a fare più di 900 chilometri con un pieno che considerando la capienza del serbatoio di 61 litri fanno una media di poco inferiore e 15 a litro e considerando che facevo molti tracciati urbani molte ripartenze molte strade di montagna è sicuramente un ottimo consumo in alcune tratti ho addirittura registrato punte di 21 22 chilometri a litro quando la utilizzavo più velocemente o proprio forte ovviamente il consumo peggiorava ma mai a soglie preoccupanti credo di non essere mai andato sotto ai 10 a litro durante quel primo mese prese appuntamento con l'assicurazione per la sostituzione del parabrezza che venne fatta al mio domicilio inoltre sistemai anche il sedile di guida acquistai su ebela il cantara originale a un prezzo onestissimo e dopo aver preso le misure incaricai mia madre di ricucire le varie parti intanto grazie al cuscino di gomma piuma di un divano destinato alla rotamazione costrui il fianchetto rovinato e lo incollai sulla base di quello che ormai era distrutto il risultato finale anche se non all'altezza dei professionisti del settore era sicuramente apprezzabile anche se non era del tutto soddisfacente per i miei parametri ma almeno migliorava l'aspetto più critico dell'abitacolo a fine mese mi organizzai anche per il primo tagliando in quell'occasione ebbi conferma sul fatto che la delta era un po più potente del del dichiarato infatti aveva la mandata del gasolio aumentata così come la pressione del turbo quanto a prestazioni stava tranquillamente al passo delle più recenti auto jtd come la stilo le 147 le 156 di prima generazione ma anche delle golf tdi 19 aveva una ripresa davvero brillante e quando c'era ad andare forte non si tirava mai indietro il primo mese fu un insieme ricco di piacevoli sorprese tra queste la capienza del bagagliaio la sua volumetria non mi faceva rimpiangere troppo di averla preferita ad una più adatta station wagon riusciva a caricare tantissimo unica scomodità il fatto che avendo solo tre porte per stivare al meglio e per scaricare i vari colli mi costringeva ad autentici contorsionismi ma era un sacrificio che comunque facevo volentieri ripagato dalle tante doti di questa vettura anche a ottobre la delta non venne risparmiata con circa 6.000 chilometri percorsi e a metà mese si manifestò il primo inconveniente due volte a settimana uscivo di casa alle 5 del mattino in una di quelle occasioni la temperatura era scesa sotto ai 5 gradi e la delta si rifiutò di partire sicuramente la causa erano le candelette per fortuna la sera prima l'avevo lasciata in strada e quindi riusci a metterla in moto a strappo durante il giorno non mi diede più alcun problema e chiamai comunque un mio amico meccanico per organizzarsi a ripudire di cambi per poterle sostituire la mattina seguente le cambiamo su quattro solo una era ancora efficiente e in quel momento ricordai il giorno in cui andai a vedere ad acquistare la delta nonostante il lungo fermo infatti il giorno partì subito sicuramente prima che arrivassi il proprietario l'aveva messa in moto e scaldata per bene e in effetti dopo quel giorno notai che la mattina stentava un po di più ma non in maniera grave solo con il primo crollo di temperatura si è scoperto che le candelette erano da cambiare una volta sostituite però la delta era davvero perfetta in quel mese guidai spesso sotto la pioggia iniziai a pensare di dover sostituire i vecchi pneumatici un mio vicino di casa mi propose le sue gomme semi nuove montate pochi giorni e poi sostituite mi disse perché non li piacevano me le propose a soli 90 euro tutte e quattro erano delle momo design fabbricazione cinese quattro stagioni premetto che sono sempre stato contrario a pneumatici di scarsa qualità perché alla fine sono l'unico contatto che c'è tra la vettura e il terreno ma considerando il prezzo davvero ridicolo e le condizioni praticamente nuove le acquistai comunque nutriendo comunque qualche dubbio dubbi che si fecero concreti già la mattina successiva presi una buca un po più profonda del solito e la gomma anteriore destra si sgonfiò istantaneamente in pratica i fianchi del pneumatico erano talmente morbidi che avevano ceduto alla botta staccandosi dal cerchio e facendo fuoriuscire immediatamente tutta l'aria montai il ruotino e durante la mattinata di lavoro mi fermai da un gommista di passaggio per farmi rigonfiare la ruota appena tornato a casa ordinai quattro gomme migliori dal mio gommista di fiducia e feci montare queste momo assurde sui cerchi momo che avevo in garage così da tenerle come scorta e augurandomi di non doverle mai utilizzare le nuove coperture erano delle kleber quattro stagioni eccellenti per tenuta di strada e durata le ho provate su altre auto in seguito anche sulla mia y nell'elefantino rosso e sono sempre andate bene riprese a guidarla serenamente affrontando strade diverse a passo molto veloce senza altri problemi ero davvero contento dell'acquisto fatto la delta era comoda sicura aveva una frenata davvero potente e resistente un motore infaticabile e sempre disponibile un cambio ben manovrabile uno sterzo quasi sportivo una tenuta di strada eccellente facevo viaggi anche lunghi e nonostante l'assetto rigido non risentivo mai della stanchezza il posto guida grazie al sedile recaro e al volante ben posizionato regolabile dal giusto diametro e con una spessa corona mi permetteva di assumere la posizione che preferisco con la seduta bassa le gambe distese e le braccia raccolte quasi come i rillisti in quel periodo ragionai molto sul perché quest'auto non ha avuto il meritato successo passi per il design che può piacere o meno e che comunque un fattore soggettivo ma nonostante sia stata sempre asperamente criticata posso dire che non è male anzi in configurazione tre porte come la mia hpe io la trovo bella la trovo una bella macchina era un'auto dalle tantissime qualità oggettive come la solida costruzione l'allestimento curato le ottime finiture l'affidabilità la comodità la tenuta di strada le prestazioni e i consumi durante le mie elucubrazioni cercavo di fare un confronto con le concorrenti del periodo della sua presentazione come finitura era sullo stesso piano delle concorrenti dirette come la golf è superiore a quello di altre vetture di quella classe come la xara la prima focus l'astra la stessa bravo e simili ovviamente non era esente da difetti per esempio le plastiche della plancia che nella parte inferiore diventavano apiccicose il profilo superiore della stessa quello immediatamente sotto il parabrezza che si spaccava era successo anche nella mia ma il resto dei materiali resisteva resisteva bene al tempo la mia nonostante 18 anni di utilizzo quotidiano nonostante gli ormai superati 240 mila chilometri a parte quelli inconvenienti di cui ho parlato era tenuta davvero bene probabilmente una golf 3 o una 4 erano anche assemblate un po meglio ma neppure tanto e anche queste secondo me avevano i loro bei difetti come alcune plastiche che si scolorivano altre che si staccavano il cielo che notoriamente si scollava un difetto questo mai visto su una delta facendo tutte queste considerazioni mi risultava difficile che una vettura così ben fatta non avesse avuto successo che meritava è vero che è stata criticata speramente perché aveva avuto il difficile compito di sostituire la delta di prima generazione che soprattutto grazie ai tanti e meritati successi sportivi aveva guadagnato questa fama ma tra gli utilizzatori quotidiani aveva costruito un'altra fama quella fatta di scocche che si spaccavano di alcuni componenti meccanici di scarsa durata di alcuni particolari di arredamento esterno ed interno che si rompevano facilmente e dell'immancabile ruggine le delta 836 come qualità oggettiva sono decisamente superiori rispetto alla prima comunque questo genere di riflessioni che si trasformarono in lunghi scambi d'opinione con chi spesso mi fermava per chiedermi informazioni su questa delta portavano a conferma di quanto dicevo i pareri erano tanti e mi faceva piacere confrontarmi con diverse persone che in molti casi e dopo averla vista e toccata con mano la rivalutavano immediatamente passo quindi anche il secondo mese e più la utilizzavo e più mi sentivo contento di questa vettura solo il fatto del bagliaio meno capiente rispetto a una station wagon mi faceva considerare la possibilità di separarmene ma bastava fare anche un solo lungo viaggio per mettere da parte questa ipotesi a metà novembre però questa fase positiva si interruppe una tarda mattinata particolarmente calda per il periodo mentre rientravo dal consueto giro di lavoro affrontando una lunga curva impegnativa salita passo veloce nella percorrenza di un lungo curvone a destra mi accorsi che di botto la lancetta del termometro acqua schizzò verso la zona rossa accostai immediatamente e spensi subito il motore aprì il cofano e vidi che stava ribollendo tutto pensai subito alla guarnizione testa ma la cosa era comunque strana perché fino a quel momento la vettura non aveva mai dato segni di surriscaldamento come mi aprassi inoltre avevo provveduto a montare un interruttore supplementare che poteva azionare manualmente la ventola del radiatore e questo permetteva di monitorare a piacimento la temperatura soprattutto in situazioni particolarmente critiche o gravose come il traffico intenso o le dure salite appunto chiamai subito un amico meccanico che all'officina in un paese a pochi chilometri dal punto in cui aveva fermato la delta e una volta raffreddata completamente la rimisi in moto e la portai da lui senza sforzarla ovviamente ma alla prima salitina la temperatura andò nuovamente a rosso dopo varie ripartenze riuscì comunque a riportarla in officina dopo pochi giorni nei quali mi ero organizzato ad andare al lavoro grazie alla disponibilità di parenti amici il mio amico mi chiamò e la sentenza non era delle migliori anzi più che la guarnizione aveva ceduto proprio la testata una piccola fenditura in un passaggio d'acqua mi disse che si era attivato già per farla guardare dal suo rettificatore di fiducia e quindi aspettai qualche giorno e la conferma del rettificatore fu questa che era possibile sistemarla ma lui avrebbe preferito lavorare su un'altra testata perché la mia non gli dava non gli dava sicurezza non gli dava le necessarie garanzie così iniziamo una spasmodica ricerca di una testata in condizioni migliori visto che nuova si trovava ma aveva un prezzo elevatissimo ne all'epoca ne vendevano una anche rinforzata e rivista che era venduta come garantita e robustissima ma aveva un costo decisamente elevato e fuori dalla mia portata quindi escludemmo questa questa possibilità ci centrammo quindi sulla ricerca di una testata usata ma ma non se ne trovavano passarono settimane un mese altre settimane e quindi cercai di altre alternative e iniziai a valutare l'ipotesi di prenderla nuova e non pensarci più ma proprio in quel momento il mio amico meccanico mi comunicò di averne trovata una in buono stato adatta alla rettifica era a febbraio del 2016 quasi tre mesi erano passati dal guasto ritirai la macchina a fine mese il primo periodo la utilizzai con estrema attenzione con un occhio rivolto alla strada e l'altro al termometro dell'acqua solo dopo averla rodata e testata per bene iniziai a spremerla come facevo prima e lei rispondeva alla grandissima fu nuovamente amore il malumore per il lungo fermo per la separazione da lei e di tutte le conseguenze legate al lungo fermo appunto comprese quelle inerenti al lavoro passo subito e mi ritrovai a guidare una macchina che mi era mancata per troppo tempo dopo l'inconveniente della testata nei mesi successivi non si presentò alcun problema utilizzare la delta per diversi mesi incrementando le percorrenze mensili perché contemporaneamente facevo crescere il mio lavoro lei in tutto quel periodo mi ha sempre assecondato alla grande ma sapevo che incrementando il giro di lavoro avrei avuto a breve necessità di un'auto più spaziosa e quindi iniziai a riprendere in considerazione la possibilità di separarmene nonostante sperassi che questa eventualità non arrivasse dovevo comunque tener presente che per migliorarmi nel lavoro avrei dovuto fare questo doloroso passo e così a luglio 2016 esattamente un anno dopo averla acquistata la mise in vendita furono poche le persone interessate all'acquisto ma di queste tre si dimostrano molto decise a portarla a casa tra loro un giovanissimo ragazzo che l'acquistò praticamente a scatola chiusa chiese foto informazioni sulla macchina e qualche giorno dopo andai a portargliela di persona da allora non l'ho più vista qualche amico mi ha detto di averla incrociata nei mesi successivi e di averla trovata sempre in splendida forma e la cosa mi fece piacere la consegnai che il contachilometri segnava 288.490 chilometri in nove mesi effettivi di utilizzo ne avevo percorso più di 49.000 una percorrenza notevole per una vettura di 18 anni che ne aveva già quasi 240.000 quando l'avevo presa e questo conferma la solidità del motore fiat turbodiesel dal 1929 centimetri cubici a precamera che è nato a metà anni 80 e arrivato fino alla fine degli anni 90 utilizzato sotto ecofani di varie vetture ma anche di mezzi commerciali e che a parte alcuni casi di cedimenti delle testate come nel mio caso ha sempre dimostrato una grande affidabilità e resistenza offrendo al contempo prestazioni elevate e bassi consumi e non dimentichiamo che da questo motore è nato il primo diesel inizione diretta montato su una vettura di normale produzione e anche il primo con morel al mondo chiuso la parentesi con questa vettura che tra le tante che ho avuto e una di quelle a cui sono più affezionato era arrivato il momento di una nuova auto di una nuova esperienza quindi mi ero messo subito alla ricerca di una sua degna sostituta e la trovai resta in casa lancia acquistando una rarissima tema station wagon turbodiesel altra auto che ha lasciato un segno importante nella mia vita automobilistica della quale vi racconterò in un altro video a presto a presto a presto a presto a presto a presto